in bocca delle mani col pensiero sono scontrati col pensiero spettato non c'è col bastone aia via tutti e due paramo fuori uno ci fuori uno vai vai lu occhio eh occhio dai oh strozzo ah ma preso occhio mamma si basta I'm tired of this quarreling inside our family madre e padre eh si follow me seguimi ma non è morta no è quasi morta è quasi morta che succede? che succede amico che succede amico chi sei? chi sei? è vero tutti chiedono chi è questo ma chi cazzo è? padre madre sono qua investe di garante affinché tu riesca a portare non è niente a che vedere con la nostra famiglia non è niente a che vedere con la nostra famiglia questo è stato un bambino molto cattivo non è morta non è morta non è morta non gli fa subito padre madre lasciatelo passare suo padre di solidare una bella lezione suo padre tra cazzo di gente arrivata madonna un'altra volta suo padre è padre e madre tutto lui si un'altra volta così è l'ultimo allora eh si probabilmente si questo già lo conosco vai alle gambe alle gambe lui vai via occhio si ma sono tutti su a fare il tifo li vedi? si lo vedo lo vedo vai ok bravissimo così bam bam bravissimo così così che te voglio così te voglio via porta lui mazzalo 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 dove cadi? oh e chi è quest'altro? eh si vabbè ma fatti un paio di cazzi tuoi no? infatti guarda a casa mia chi si fa i cazzi sua cambia a fine cent'anni una mia ma ti togliela il cazzo? io non ci ho capito proprio un cazzo la vita te li toglie via ma toma una che culo? che culo ormai è bravura ma ti devi togliere oh vuole pistola un pezzo di cacca vabbè mi stavo uccidendo però vabbè non è giusto però eh però allora loro intervengono in 5 e 6 ma è morto? ho l'ucciso si uno si ma mi ha tratto con l'altro pure lui no le pistole no non ti permettere di toccarmi le pistole che scelta per terra quello? però oh c'è cibo c'è cibo oh me l'ho messo una mancia che è successo? cazzo una crepi madonna no no aia oh bomba bomba ma steso dai ci prende le pistole via porca frota uno è ammazzato lui mi ha capitato il pistole aia via che dole però non è giusto eh e cadi un attimo a terra vai fam fam non ho fatto niente non gli ho fatto non gli ho fatto proprio lui c'è altre arance? no mi sto mettendo qualche arance però li sto vogliono la vita? no come no adesso? si vai vai boom ok perfetto lui così così adesso? eh non l'ho visto adesso? si seguendo si si tolgo la vita? si occhio occhio via vai così ti voglio così boom boom così sempre così lui occhio vai vai si 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 occhio oh 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 occhio così così oh ricarica oh vai oh vai boom 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 non è dato un cazzo però va bene occhio vai ricarica via ok fa le stesse mosse via vai ok vai pam pam mamma si cazzo e mo e mo sei morta oh eh e mo sei morta ma è morta la scena iniziale non può essere ancora viva ma che cazzo c'ha non può essere ancora viva dimmi che muoio no aspetta ha rotondito a tutti vai adesso di nuovo no scusa quello lì basta bastava che faceva così oh sei libero di sviluppare il mio segreto e dammi il corpo e i dati sono però lieto che tu l'abbia ancora rivelato che tu non l'abbia ancora rivelato non lo dirò a nessuno e ti considero sempre mio padre e mio padre vuoi soltanto che tu la smetta di fare ciò che hai ai bambini che cazzo fai ai bambini oh non ha voluto confidarti con il mio padre madre perciò ti farò io quale cosa stanno fare non è tuo papà né tua mamma egli è una creatura di sesso maschile incapace di dare la vita ad alcunché ha rapito voi tutti dai vostri genitori infatti è una ciccogna caccia ladra strana vedi ha rapito i bambini e li ha cresciuti guarda ti ricordi in pratica a tempo dietro e perché era un poveri bambini capito che ti ha fatto ti ricordi il porcello si aspetta c'è un grande animale vi mostrerò anche questo ora da uccidere però scusa finora siete stati uniti da una parentela fatulla, ma sono giunto di qui per farvi la verità e sarete legati da un momento che brutta verità si infatti ho veramente spezzato e quindi ha concluso il dato e quindi che succede che abbiamo finito il gioco ringrazio questo non so c'è il pisaro pure dai fori lui è finito il gioco chip ragazzi è stato un piacere finire questo gioco assieme a voi spero vi sia piaciuto grazie a chip per la compagnia grazie a tutto il vostro supporto non piangere non piangere non piangere Non cambia, non cambia Mi mancherà padre, madre, zio, fratello, nonno E' tutti quei mob? Rai finito il gioco? Si Che figata Ragazzi se volete che facciamo anche il 2 Perché esiste anche il 2 di questo gioco Dicono che sia la rimasterizzazione del primo Però magari è figo anche il secondo Se volete nei commenti come al solito Un bacione e un abbraccio Scusa, scusa Qua c'è scritto Italian Ma dove cazzo è l'Italian? Sono dato i sottotitoli Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti